L'horizzonte 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 Generatore di fumo avviato. Ricognitore in volo. Avvistato cacciato il pendiniere nemico. Avvistato incrociatore nemico. Poi cacciato il pendino, a scopo. Il pendino è stato da scopo. Il pendino è stato da scopo. La caccia di cacciato. Un'altra caccia di cacciato. Rilasciato il petiniere nemico individuato. In volo. In volo. Rilasciata cortina fumogena. Avvistato incrociatore nemico. In attesa di istruzioni. In volo. Siluri a poppa. Ricognitore di ritorno. Siluri a bavordo. Allarme incendio. In attesa di istruzioni. La squadra nemica è in vantaggio. Abbiamo distrutto un incrociatore nemico. Problema risolto, signore. Supportate obiettivo alleato. Incrociatore nemico affondato. Corazzata nevita individuata. Sì. Socienerdi. Mitaccio. Senato. Di membro. Computa. Rimedi. Principatio. In akti. Caccia con petiniere nemico individuato. In volo. Incrociatore nemico individuato. Corazzata nemico individuata. Avvistato incrociatore nemico. La squadra nemica è in vantaggio. La squadra nemica è in vantaggio. In volo. Generatore di fumo avviato. Allarme incendio! Siluri dritti di prua. Problema risolto, signore. Avvistata, corazzata nemica. In volo. In volo. Ricognitore emico. Attendo ordini. Chiudo. Sommersibile nemico in vista. Avvistata, corazzata nemica. In volo. Rilasciata cortina fumogena. In attesa di istruzioni. Ricognitore distrutto. A tutte le unità, concentrare il fuoco sul bersaglio. Concentrare il fuoco sulla nave nemica. La squadra nemica è in vantaggio. La corazzata nemica sta colando a picco. La squadra nemica sta colando a piccolare. Ora... In getee... La squadra nonica. capabilitiesi che negate è di fronte. Italia al'amico. Italia al'amico. Il fuoco aparece in alto cheme ha in alto. Generatore di fumo avviato. 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 In attesa di istruzioni. Sei l'ultima speranza. L'incrociatore nemico sta colando a picco. L'incrociatore nemico sta colando a picco. Si, n'è percettere. Allarme incendio! Generatore di fumo avviato! Problema risolto, signore! In volo! In volo! La battaglia terminerà tra cinque minuti. In attesa di istruzioni. Siluri dritti di poppa! Ricognitore di ritorno! Rilasciata cortina fumogena! Ricognitore distrutto! In volo! In volo! La corazzata nemica sta colando a picco! Attendo ordini! Chiudo! Siluri dritti di poppa! Problema risolto, signore! Siluri a poppa! Siluri dritti di poppa! Siluri a bordo! Siluri dritti di poppa! 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 Siluri dritti di prua Attendo ordini Chiudo In volo Siluri a prua Siluri abba bordo Siluri dritti di poppa Siluri dritti di prua Siluri a prua Siluri abba bordo Attendo ordini Chiudo Siluri abba bordo